E a risentire di questa crisi però sarà soprattutto il settore del turismo in Molise in attesa delle nuove disposizioni che entreranno in vigore solamente dal primo di giugno. I sindaci pensano già a nuove idee, ora si punta ad un'attività turistica di prossimità, ma andiamo a vedere. Dopo le parole del Premier Conte c'è grande frustrazione per il settore turistico il più colpito da questa pandemia. Al momento non si può uscire di casa, figuriamoci viaggiare, tuttavia le associazioni e le istituzioni italiane prevedono una lieve ripartenza a fine giugno e una stabilizzazione a fine anno. Si tornerà alla normalità però solo nel 2021. Ora la speranza è che nella stagione estiva le cose possano pian piano ripartire, cercando di valorizzare un turismo più diversificato e che si distanzia dalle vecchie abitudini degli italiani. Ora è necessario puntare su un'attività diversificata e in luoghi poco frequentati a zero rischio contagio. A trarne vantaggio in questo periodo potrebbero essere le piccole regioni come le Molise. Tale luogo infatti gode di paesaggi ancora inesplorati e poco frequentati, soprattutto in periodi di vacanze estive. A Doratino la Giunta Comunale si sta già adoperando per cercare di puntare alla valorizzazione del borgo antico con attività di comunicazione per incentivare le visite. A Castel del Giudice invece il sindaco Lino Gentile punta ora tutto sullo spopolamento per la preservazione del posto. Infatti la presenza razionata di persone ha fatto sì che non ci fossero contagi e questo è un bene per poter aprire le porte del suo paesino alla visita di turisti che possano godere dell'aria pulita e delle bellezze che la terra ha da offrire. In questi nostri territori la scarsa intensità abitativa che lo sappiamo è stata anche uno degli elementi che ha condizionato per fortuna una scarsa presenza del virus è un elemento importante. Noi abbiamo sempre detto paradossalmente in tempi non sospetti gli elementi di debolezza, della marginalità anche umana possono diventare un elemento di forza e questa crisi accelera ancora di più questa prospettiva.